Professore Ormanti, lei ha tenuto una relazione ufficiale in questa giornata, giornata di valori, giornata che appunto purtroppo si si sposa anche con eventi nuovi, attuali di terrorismo che in qualche modo riportano al fenomeno della resistenza nel senso della ricerca di nuovo della libertà. Sembra un paradosso ma accade proprio questo. Sì, c'è una parola comune, terrore. Il totalitarismo, le dittature hanno generato terrore, il terrorismo in forme diverse, nuove, genera terrore. Che cosa hanno di comune questi due aspetti così lontani nel tempo e anche nelle modalità? Il tentativo di dividere la società civile, di isolarci, di fare in modo che anche il nostro privato si richiuda sempre più in se stesso. Ecco, la partecipazione pubblica, l'aver mantenuto questa iniziativa che abbiamo fatto, il riferimento alle virtù civiche di cui si parla nelle motivazioni per cui è stata conferita la medaglia d'oro alla provincia d'Imperia sono assolutamente importanti. I valori della nostra carta costituzionale, al di là delle visioni politiche differenti, devono vederci uniti come comunità che riesprime nel suo dialogo, nella sua dialettica, una capacità di risposta forte e una prospettiva politica, non solo militare, nei confronti del terrorismo così come prospettiva politica fu quella della resistenza, che non fu solo e soprattutto una risposta militare, ma una grande risposta politica e di civiltà. Grazie.